Musica Buongiorno cari amici, buon primo dicembre, ben ritrovati! Siamo alla nostra nona puntata e oggi parleremo di panettoni, di dolci natalizi biologici. Resto sempre molto impressionata quando vado a leggere le etichette dei panettoni che troviamo nei supermercati. Non dico di quelli artigianali, ma di quelli che troviamo nei supermercati. Quando leggo additivi impressionanti, quando vado a leggere che questi emulsionanti addirittura possono derivare da unghie e ossa di animali. Oppure questi aromi artificiali, per non parlare poi di zucchero, di zucchero semplice. Però noi siamo tutti consapevoli che mandandoci una fetta di questo panettone pensiamo al gusto, al palato, al piacere e ce ne importiamo della nostra forma. Abbiamo la fortuna in questo negozio di avere panettoni gustosissimi, dolce di Natale, fantastici, veramente super super buoni. Quest'anno poi abbiamo un'eccellenza. Sono fatti con pasta di madre acida, di lievito madre. Questo lievito li fa gonfiare naturalmente, li fa crescere naturalmente. E non sono per niente pesanti, sono ottimi per la nostra digestione. In più in questi panettoni non abbiamo mai lo zucchero bianco. Abbiamo anche le alternative alle farine, non farina di tipo zero, abbiamo la farina di farro, abbiamo addirittura panettoni che non hanno lo zucchero neanche di canna, l'eritritolo, indicatissimi anche per chi ha problemi di diabete. Ma vediamoli più da vicino. Questi sono i panettoni più buoni in assoluto del negozio. Sono una vera godura del palato, sono con la crema di pistacchio, con la crema di arancia, con la crema di rum e di limoncello. Questi sono per i vegani, per chi hanno voglia di mangiare un panettone sano senza latte e senza uova. In una versione piccolina, con lo zucchero di canna, con le gocce di cioccolato oppure senza. E potete decidere se li volete con la farina di farro o con la farina di frumento. Se non vogliamo rinunciare al panettone tradizionale, abbiamo il vero panettone bio, con burro bio, uova bio, farina bio, zucchero di canna e sempre il lievito madre. Vi assicuro che questo all'arancia con le gocce di cioccolato vi stupirà. Non posso fare altro che invitarvi a venire, ve li farò anche provare e a presto e alla prossima appuntamento con altri prodotti natalizi. Ciao a tutti! Ciao a tutti!